La struttura che permette il divertimento e la crescita e l'apprendimento dei bambini mi ha permesso di trovare le stesse cose in me, in una dimensione professionale che tiene conto delle esigenze temporali anche ridotte o più espanse, quindi se uno ha più tempo da investirci può crescere mentre vede crescere i bambini e tutto questo ha un impatto molto positivo sui bambini e su se stessi.